Buongiorno da Anna e ben ritrovati alla nostra rubrica quotidiana 100 buoni inizi. La frase di oggi è di Anthony De Mello Il dolce del giorno è una golosissima Sant'Onore offerta dalla pasticceria Fonte del Dolce di Milano. Mi auguro che la vostra giornata sia serena e vi do appuntamento a domani con 100 buoni inizi. Buona giornata a tutti! Grazie per la visione!